Ehi, è il pilota che è in te che parla. Ti ricordi di me? Sono la parte di te che si sente viva quando ha un volante tra le mani. Non mi hai dimenticato, vero? Sono la voce che dice, com'è la tenuta di strada? E ecco una strada degna di essere guidata. Sono il tuo Alfa Ego e qui c'è qualcosa che mi sta riportando nella tua vita. Alfa Romeo Giulietta è l'auto del centenario Alfa Romeo. È una sportiva di razza, con uno stile inconfondibile e che puoi guidare ogni giorno, ogni momento. Nasce con un'architettura completamente nuova. Ha un bagagliaio spazioso, è curata in ogni dettaglio ed è stata pensata per essere sicura e confortevole in tutte le condizioni. Naturalmente ha anche tutto quello che noi veramente desideriamo. Stile Alfa Romeo, linee sportive, motori performanti, tenuta di strada entusiasmante e un comfort al top della categoria. Alfa Romeo Giulietta sarà in commercio a partire dalla prossima primavera e io ti aiuterò a scoprirla. Dunque, ci rivediamo.